In occasione della prossima ricorrenza di Ogni Santi e della commemorazione dei defunti, Arezzo Multiservizi, la società che gestisce 54 cimiteri nel territorio comunale, ha predisposto una serie di iniziative per rendere più agevoli le visite al cimitero urbano di Arezzo da parte dei visitatori. Da sabato 29 ottobre fino a mercoledì 2 novembre il cancello di ingresso al cimitero monumentale di via Bruno Bozzi verrà chiuso alle auto consentendo esclusivamente il passaggio pedonale. Per le persone disabili l'accesso con auto sarà garantito salendo dalla rampa raggiungibile dall'ingresso del parcheggio di via Gamorrini. È stato incrementato anche il servizio di vigilanza privata al fine di garantire maggiore sicurezza agli utenti attraverso il servizio di pattugliamento fisso e di sopralluoghi nei vari cimiteri extraurbani. Arezzo Multiservizi ha ricordato inoltre che nel cimitero di Arezzo sono già iniziate le procedure necessarie per i lavori di manutenzione e il restauro per il rivestimento dei loculi di parte dell'emiciclo sinistro e alcune coperture delle gallerie. Intanto il comune di Arezzo ha adottato un'ordinanza che disciplina la circolazione stradale in alcune strade cittadine durante l'arco temporale interessato. D'altronde nella ricorrenza di ogni santi e nella commemorazione dei defunti il traffico nella parte alta della città e nei pressi dei cimiteri si intensificherà. Ecco quindi un piano di lavoro che vedrà impegnati non solo il personale di Arezzo Multiservizi ma anche guardie giurate e polizia municipale affinché non ci siano disagia alla circolazione e soprattutto sicurezza all'interno dei cimiteri urbani ed extraurbani.